ciao amici ciao e benvenuti nella magica atmosfera del mio lab oggi voglio fare un video recensione di questo magico prodotto che è stato l'oggetto dei miei desideri molto a lungo adesso a distanza di credo un paio d'anni da quando l'ho acquistato posso fare una recensione come si deve e dirvi l'impressione che ho avuto oggetto dei desideri veramente si tratta di un motore con albero flessibile con un manipolo e che si usa per fare moltissime cose lo usano anche gli hobbysti quindi non abbiate paura non abbiate paura di uno strumento complicato o che non si possa tenere in casa perché non è così nello stesso tempo fa il suo egregio lavoro il suo egregio mestiere e adesso vi dirò di che cosa si tratta e perché cosa è possibile utilizzarlo lo acquistai perché giro un po lo acquistai circa due anni fa vi dicevo qui potrete vedere il video in cui scartavo il pacco del dremel e era stato insomma lungo desiderato lo pagai credo sui 240 euro se non ricordo male poi guardate nell'info box metterò il link a quell'acquisto e anche a eventuali versioni non so se siano state aggiornate ve lo dico subito normalmente il dremel fortiflex perché questo è il modello fortiflex attenzione non è come tutti i modelli il fortiflex arriva con 21 pezzi in più 21 punte e non sono un granché ve lo dico subitissimo sarebbe meglio avere una diciamo delle punte di partenza dovreste avere possibilmente del materiale di partenza oppure procurarlo a seconda del lavoro per cui impieghereste il dremel fortiflex quindi diciamo che c'è bisogno di comprarle a parte allora adesso vediamo i dettagli di questo dremel allora questo è il corpo motore vedete con il pulsante di accensione on off il dremel fortiflex va montato cioè avrete i vari pezzi smontati ricordo che c'era stato qualche problemino nel montaggio del tubo flessibile ma che però era stato risolto facilmente perché queste parti giungono smontate quindi il tubo questo ingresso e il manipolo che ora vi mostro questo è il manipolo ok va bene qui si attaccano le punte è molto semplice da usare naturalmente per tutto quello che riguarda le istruzioni dettagliate dell'uso di questo strumento e la sicurezza nel posto di lavoro sul logo di lavoro sull'utilizzo dovete rifarvi alle cosiddette spieghe come dice mia madre ovvero al manuale fortiflex ok poi io ne ho due perché c'è anche il manuale del dremel come asta allora una cosa da dire molto importante questo è quello che vi arriva col pacco e con le 21 punte praticamente allora il corpo motore vi dicevo il tubo flessibile il manipolo e le chiavi per aprire e chiudere ovviamente il manipolo e per gestire anche il corpo motore eccetera perché di tanto in tanto va anche ingrassato l'interno del tubo ok di tanto in tanto non è una cosa da fare spesso comunque per la manutenzione questo è quello che vi arriva e arriverà anche una placchetta di metallo con le relative viti per poter attaccare il dremel eventualmente al muro sappiate che il corpo motore piuttosto pesante quindi non è leggerissimo infatti io a parte ho acquistato anche il suo anzi la sua asta questo è proprio l'asta dremel ok che arriva fino al tavolo da lavoro e al tavolo da lavoro ha una morsa una morsa che lo tiene bloccato in posizione bisogna fissare cioè il dremel grazie a questa asta a meno che non ne abbiate una parte o non vogliate fissarlo a muro questa asta siamo sui 20 25 euro vi metterò il link anche a questo oggetto ed è necessario averla secondo me da quel momento non l'ho più spostata è sempre stata qui sul mio tavolo da lavoro e devo dire non è neanche particolarmente ingombrante se ingombra io faccio così spostate ok mi raccomando mettete una luce vicino una anche due luci vicino perché bisogna lavorare assolutamente con attenzione qual è la particolarità di questo dremel cioè di questo motore flessibile rispetto al classico dremel che conosciamo tutti quello che avremmo usato sapete quello piccolo o a pile o da attaccare all'elettricità ecco la differenza è che si può regolare la velocità quindi si può regolare il modo ed essere più precisi nel modo di lavorare grazie al pedale al benedetto pedale certamente ci sono strumenti ancora più moderni di questo certamente ci sono strumenti più professionali però se l'uso che dovete farne voi è diciamo così relativo quindi non avete una grande mole di lavoro un lavoro particolarmente specialistico molto complesso che richiede anche un motore magari più forte eccetera eccetera io direi che il fortiflex va benissimo per quanto mi riguarda io ho trovato il mio attrezzo ideale per lavorare i metalli quello che faccio è relativamente poco cioè mi può servire servire per forare per lucidare i metalli e più che altro uso punte in silicone appunto per la lucidatura e anche per la leggera smerigliatura ritoccatura delle imperfezioni questo che vedete è il pedale è veramente il punto di forza perché in genere non serve andare velocissimi per utilizzare le punte per lo meno nei lavori di fino ecco di solito non serve a meno che non si tagli non si facciano lavori che io considero un pochettino più grossolani quindi andare piano regolare la velocità in particolare durante la lucidatura secondo me è molto importante ed è quello che mi ha convinto il motivo per cui ho deciso di acquistare il fortiflex c'è questa base adesso potete vedere questa base che è anche una base portapunte ci sono delle viti di fissaggio al piano di lavoro e una morsa come vi dicevo e il manipolo mi raccomando di non piegare mai troppo di non tenere mai il tubo del manipolo di non tenerlo mai troppo piegato su se stesso perché si rovinerebbe determinerebbe un danno anche pericoloso tra l'altro per l'utilizzo di un mezzo che va ad elettricità come questo allora questo è il mio Dremel fortiflex di cui sono contentissima anche se qualcuno diceva ma non è di un utilizzo professionale non è identico a quello degli orafi io non so che dire io mi sono trovata benissimo non posso dire nulla non ha alcun difetto non mi ha creato problemi quindi per quanto mi riguarda sono felicissima dell'acquisto che feci un paio di anni fa e quindi mi sento di consigliarlo spero che questa review vi abbia dato un'idea e comunque vi sia stata utile se avete interesse in questo tipo di strumenti e se volete anche voi migliorare il vostro tipo il vostro lavoro, la qualità del vostro lavoro quindi per il momento vi lascio mi raccomando iscrivetevi al canale se avete delle richieste per quanto riguarda do it yourself, fai da te e i gioielli, la tecnica wire con la quale io lavoro oramai da 10 anni potete tranquillamente chiedere e io farò in modo di rispondere, di dare il meglio di me di quello che ho imparato in questi anni attivate la campanella benedetta io non lo dico mai ma è il caso che lo dica perché altrimenti le notifiche ho notato che non arrivano facilmente e seguitemi vi ringrazio per aver seguito intanto questo video per avermi ascoltato ditemi la vostra opinione ditemi se usate anche voi un attrezzo così se lo vorreste, se non vi serve se ne avete trovato uno migliore ditemelo e io sono tutta orecchi grazie, grazie a voi un bacione a presto